Oggi su Ecologia Verde spieghiamo tutto ciò che devi sapere sulle catene alimentari. Definizione, tipologia, esempi e differenze tra catena alimentare e rete alimentare. Iniziamo! Cos'è una catena alimentare e le sue caratteristiche? La catena atrofica o catena alimentare di un ecosistema è uno schema in cui sono rappresentate le relazioni lineari tra le specie di organismi consumati e consumatori, ovvero le frecce mostrano come l'energia viene trasferita da un organismo appartenente a un livello trofico inferiore ad un altro organismo che occupa un livello trofico superiore. Alcune delle principali caratteristiche delle catene alimentari sono Il trasferimento di energia avviene da organismi semplici a organismi più complessi. Le frecce indicano la direzione del trasferimento di energia. Gli anelli della catena alimentare dei livelli trofici sono rappresentati ciascuno da una specie. Le specie chiave sono in grado di modificare le catene alimentari poiché la loro presenza o assenza controlla l'abbondanza di altre specie a causa della posizione che occupano nella rete alimentare. La quantità di energia ad ogni livello trofico della catena alimentare può essere rappresentata in piramidi trofiche o ecologiche. Alla base con un maggiore accumulo di energia ci sono i produttori primari. A livello successivo il triangolo che rappresenta l'energia utilizzata e accumulata è più piccolo, rappresentando il 10% di tutta l'energia del livello precedente e così via. L'energia disponibile diminuisce rapidamente quindi queste piramidi non sono molto lunghe. Esistono diversi tipi di catene alimentari a seconda degli organismi che le avviano o ne sono la base. Catene alimentari dei predatori. Chiamate anche catene a base di erbivori. In esse troviamo il seguente ordine. Produttori primari, consumatori primari, consumatori secondari, consumatori terziari, consumatori quaternari. Catene alimentari dei parassiti. In essi i parassiti possono costituire la base alimentare per altri parassiti oppure si nutrono di animali molto grandi, servendo da cibo per animali più piccoli, come gli uccelli. Catene alimentari decompositrici. In essi i microorganismi decompongono la materia organica morta. L'ordine è il seguente detriti, decompositori, consumatori secondari. Esempi di catene alimentari terrestri. Come esempi di catene alimentari terrestri indichiamo alcune di quelle che si verificano nella foresta mediterranea. Il primo esempio è il seguente. Ginestra, produttore primario. Afide, consumatore primario. Cincia, consumatore secondario. Aquila imperiale, superpredatore. Come secondo esempio troviamo rosmarino, produttore primario. Coniglio, consumatore primario. E lince, superpredatore. Sopra vi lasciamo un video in cui vi parliamo degli ecosistemi terrestri. Esempi di catene alimentari acquatiche. Negli ecosistemi acquatici le catene alimentari sono più lunghe. Come esempi di catena alimentare acquatica indichiamo una catena alimentare marina e una catena alimentare d'acqua dolce. Un esempio di catena alimentare marina è il seguente. Alghe verdi, produttore primario. Molluschi, consumatore primario. Cottus cognatus, consumatore secondario. King salmon, consumatore terziario. D'altro canto un esempio di catena alimentare acquatica d'acqua dolce potrebbe essere la seguente. Enea, produttore primario. Cavalletta, consumatore primario. Rana, consumatore secondario. Airone cenerino, consumatore terziario. Ora che conosci gli esempi di catene alimentari acquatiche vediamo la differenza tra una catena alimentare e una rete alimentare. Differenza tra catena alimentare e rete alimentare. La differenza principale tra una rete e una catena alimentare è che le catene sono relazioni isolate dalla rete alimentare. Ovvero la rete alimentare descrive l'insieme delle catene alimentari presenti in un dato ecosistema. Ecco perché le reti alimentari offrono una rappresentazione più realistica delle relazioni nutrizionali che si verificano in una comunità. Tuttavia queste reti alimentari sono più complesse e difficili da rappresentare e pertanto è solitamente più semplice studiare le catene alimentari separatamente. Se vuoi continuare ad apprendere curiosità sulla natura non perderti la playlist che ti lasciamo qui accanto. Alla prossima volta ecologisti!